La società moderna è sempre più orientata ad un ritorno al biologico e alla preservazione ambientale. Da oltre 50 anni la FIPA Cosmetics è estremamente attenta a queste problematiche e ne condivide appieno la filosofia. Nasce da qui l'idea della linea fase essenziale, formulata con estrema attenzione alla scelta delle materie prime, nel totale rispetto della natura e soprattutto del consumatore. Fase essenziale è una linea di prodotti specifici per ogni tipo di capello, formulata unicamente a base di oli essenziali e detergenti derivati dagli zuccheri, concepita per contrastare sintomi quali invecchiamento precoce, inaridimento eccessivo e caduta, favorisce la ricrescita proteggendo il capello dagli stress ambientali. assolutamente priva di SLS e SLS e anche di alcol, profumi, coloranti e qualsiasi derivato del petrolio, rappresenta quanto di più naturale possa essere concepito ad oggi. Benvenuti alla FIPA Gli oli essenziali sono da sempre utilizzati per le funzioni purificatrici e riequilibranti dell'epidermide e del cuoio capelluto. La sinergia tra gli oli essenziali e i detergenti derivati dagli zuccheri, insieme alla mancanza di sostanze aggressive come SLS, SLS e derivati del petrolio, evitano l'insorgere di intolleranze che possono portare nel tempo ad allergie momentanee o croniche. Proprio per questo la FIPA ha creato la lozione ADVANS pretrattante. ADVANS è una lozione riequilibrante a pH epidermico, specificamente indicata per pulire il cuoio capelluto in superficie e purificarlo, svolgendo un'azione lenitiva e disintossicante prima di iniziare qualsiasi trattamento. Il chimico della FIPA, Stefano Scorsino, che ha studiato e realizzato l'intera linea, ci accompagnerà in questo tour nel mondo di fase essenziale. Tutta la linea fase essenziale è stata sviluppata grazie all'ausilio del microvisore. Il microvisore è uno strumento che permette di ingrandire il cuoio capelluto e il capello da 50 a 200 volte e grazie a questo possiamo vedere nel dettaglio l'azione dei prodotti e lo stato del cuoio capelluto. La linea fase essenziale ADVANS, grazie al suo particolare pH, permette l'eliminazione di grasso e sudore dal cuoio capelluto, mantenendo inalterato lo strato acido lipidico cutaneo. La presenza di acido glicolico e di arginina permettono un'esfoliazione profonda ed indolore, permettendo poi agli oli essenziali di cetra e di menta di penetrare all'interno del cuoio capelluto, donando un effetto lenitivo e rinfrescante allo stesso tempo. Fase essenziale si compone di quattro linee, ognuna studiata per uno specifico problema del capello, detoxifying, sebo control, air gym ed equilibrium. Detoxifying è una linea formulata per aiutare il capello e il cuoio capelluto ad eliminare le scorie tossiche derivanti dagli agenti esterni giornalieri. Sia lo shampoo che la crema detossinante sono ricchi di oli essenziali di menta e cedro che purificano e proteggono il capello e il cuoio capelluto, donando protezione, lucidità e morbidezza. Detoxifying va usata quando i capelli sono sfibrati e danneggiati da eccessivi trattamenti, sia chimici che meccanici, e anche per proteggerli da agenti inquinanti e da raggi ultravioletti. Stefano Scorsino, il chimico della Faipa, ci aiuterà ad approfondire le caratteristiche e l'efficacia di detoxifying. La linea detoxifying è particolarmente ricca di oli essenziali e proteine cationiche. Le proteine cationiche sono estratte dall'albero dei miracoli moringoleifera. Queste proteine formano una sorta di film sul capello che lo proteggono completamente dagli agenti atmosferici, dai raggi ultravioletti e dall'inquinamento. Inoltre la sinergia con gli oli essenziali dono un effetto lenitivo e rinfrescante al cuoio capelluto. Con questo prodotto si ha una schermata completa contro gli agenti atmosferici, aumenta la pettinabilità, quindi quando il capello è danneggiato da stress ambientali, questo è il prodotto ideale per far sì che il capello appaia morbido e lucente. Con l'aiuto di Stefano Santamaria, responsabile della scuola Air System Academy e responsabile tecnico ed artistico della FAIPA, scopriremo il modo d'applicazione ed il ciclo applicativo della linea detoxifying. Bene, partiamo dal detoxifying, è uno shampoo detossinante insieme alla crema che serve proprio per rimuovere tutte le parti tossiche annitate nel capello. Come prima cosa, prima di ogni trattamento si usa sempre l'Advance che ammorbidisce tutte quelle parti che si annitano dei capelli affinché poi applicando lo shampoo e la crema detossinante venga fatta una pulizia del capello e della cute completa. Il metodo di applicazione dell'Advance è applicarlo a una diecina di centimetri dalla testa, su tutti alla capigliatura, specialmente se è lunga, si lascia agire per un paio di minuti e dopodiché andremo ad applicare lo shampoo detossinante proprio per fare una pulizia completa su tutti i capelli e sulla cute. Applichiamo sempre lo shampoo detossinante sulla nostra modella Anna, facendo sempre un massaggio su tutta la testa affinché il prodotto venga distribuito su tutta la testa e su tutti i capelli. Dopodiché fare un risciacquo molto lungo con acqua tiepida per fare in modo che il prodotto venga portato via dall'acqua e avere una maggiore pulizia su tutta la cute. Bene, ora andremo ad applicare la crema detossinante, ovviamente cercheremo di distribuirla su tutti i capelli in maniera uniforme per ridare morbidezza e lucentezza. E' sempre consigliato lasciarla un paio di minuti in posa proprio per dare maggior penetrazione e idratazione al capello. Si lascia un paio di minuti e si procede al risciacquo. Il risultato sarà pulizia, protezione, idratazione. Ines, tutti. Caso un paio di minuti e soria. Grazie per la visione!